Questo lava soltanto? Questo sbianca, ma solo la lana? Questo va bene solo per il cotone? Possibile che non esista un prodotto che lava e sbianca tutto? Lava sbianca, signora! Eccolo qua! Lava sbianca si usa in lavatrice o nel bucato a mano? Lava sbianca, lava sbianca e rigenera lana, seta, cotone, lino e tutte le fibre bianche perché contiene bianco nuclear! Lava sbianca è fantasmatico!